Un docufilm sulla scia delle grandi produzioni Sky, Netflix o BBC, girato da una casa di produzione fanese per raccontare la fanoromana all'epoca di Cesare Ottaviano Augusto e di Marco Vitruio, la cui genialità fondò i canoni dell'architettura. A realizzare questa opera è coronare così un sogno due vecchi amici che hanno fatto del mondo della celluloide, come si diceva un tempo, il loro mondo. Henry Secchiaroli e Andrea Giomaro in arte gommo, che diedero vita alla Egofilm Henry e Gommo appunto. Era il 2009 quando questi Goodfellas di casa nostra pensarono ad un film sulla fanoromana, ma fu messo nel cassetto. Gommo Giomaro iniziò a mettere successi come mago degli effetti speciali, sbarcando anche ad Hollywood con Alien, mentre Secchiaroli sbarcava con gli sbancati. Ora il sogno si avvera grazie al sostegno della Regione Marche e partnership locali, come il Centro Studi Vitruviano, la Colonia Iulia Fanestri, sei fondi regionali a disposizione per le produzioni video. Così Ottavia e Marco Vitruvio Pollione prenderanno vita grazie a un supercast di attori sul grande schermo. Abbiamo un importante comitato scientifico, codiovato dal professor Clini, che ci porta in un viaggio attraverso sia la fiction e sia come dire, la discussione scientifica su questo personaggio. Perché poi dopo ci porta a tutta una serie di situazioni, ci porta anche nel rinascimento. Quindi ecco, Vitruvio per noi è un personaggio chiave della romanità, è un personaggio chiave per Fano. Un progetto cinematografico che potrebbe sicuramente aprire così la strada a quella identità distintiva per cui Fano tanto va alla ricerca. È appunto un'opportunità molto importante perché il film generale sale e quindi speriamo venga acquistato anche da produttori interessanti perché la nostra funzione, la nostra mission è quella di far comprendere sempre meglio questa straordinaria figura di architetto che lega il suo destino a Fano e che è stato un architetto che ha avuto una fortuna critica importantissima anche nel rinascimento italiano. Non a caso la mostra che stiamo varando per il prossimo aprile, Vitruvio e Leonardo, per celebrare la figura di Leonardo, vuole indagare i rapporti che il grande genio italiano ha avuto con gli iscritti di 1500 anni prima di Vitruvio polione.